E' tornato in libertà in quella Valpellice in cui nel giugno del 2020 i carabinieri forestali lo avevano recuperato, stremato in pessime condizioni e con alcuni pallini da fucile da caccia conficcati in un'ala. Stiamo parlando del grifone che i tecnici faunistici del Centro animali non convenzionali di Grugliasco, convenzionato con la città metropolitana, avevano rifocillato e curato e ribattezzato Godric. Il rapace ha trascorso un adeguato periodo di riabilitazione in un'ampia voliera al Canc e il suo approdo al Centro, che fa capo alla struttura didattica speciale veterinaria dell'Università di Torino e le cure che gli sono state prestate con successo, rientrano fra gli interventi previsti dalla convenzione attivata dalla città metropolitana. Il servizio, salviamoli insieme on the road, è attivo 24 ore su 24 sulla linea telefonica 349 4163 385.